Per la palestina convocata a Roma per sabato prossimo, nonostante il divieto della questura. Ci vediamo il 5 ottobre a Roma tutti e tutte, venite non organizzati, venite con le vostre macchine, venite con gli autobus, perché la manifestazione si farà. La buona notizia è che questo, tra virgolette, signore, lo chef Rubio, ecco nel suo confronto è stato aperto un procedimento in procura per istigazione all'odio razziale e di questo ne siamo molto, molto, molto contenti. Così impara a straparlare non sapendo di che parla.